Laurea con bacio accademico. Posto in un importante studio di Madrid prima della laurea. Ed è punto in bianco. Fai bagagli e ti trasferisci a Cambados. Che ci fa una come te in un posto così? Baci, tesoro. Un bacio a te, papà. Tuo padre è un collaboratore di giustizia. Era un trafficante. Ha tradito i suoi soci. Io ho bisogno di sapere. E le risposte si trovano qui. Mi avevano detto che vieni qui tutti i giorni. Ah, te l'hanno detto? È un paesino, non ci sono segreti. È Daniel Padin, il figlio di Padin. Il primo signore della droga a cadere qui. Diecimila euro che non arriviamo a terra. Finalmente abbiamo il polpo per la festa. A tutti i tentacoli. Pesta, tentacoli, tutto. Sappia che non credo affatto alla sua apparizione improvvisa a Cambados. Ma ho il dovere di avvisarla. Che Padin padre non lo inganna neanche Dio. Non perdona. Nessuno. Il prossimo lavoro sarà grosso. C'è parecchio in ballo. Ora non possiamo sbagliare. Devo avvalermi di nuovo dei tuoi servizi. Va bene, dimmi però... Alla gente di Madrid non facevi domande. E vuoi farle a me? Che sono un pezzo di pane? Metti la modalità aereo. Daniel, dici sul serio? Certo! Voglio comprare due barche. Sono per tuo padre. Perché anche se è in carcere, continua a dirigere lui le operazioni. Se ti rispondessi, poi ti dovrei ammazzare. È così che dicono nei film, no? A te non piace nessun dirlo, no? A te non piace nessun dirlo. A te non piace nessun dirlo.